Ciao, bentrovati sul mio canale! Oggi torno con un video diverso, video collaborazione con il sito Perline Bijou e sono molto contenta di mostrarvi sia le perline che ho scelto per questa collaborazione che il sito mi ha omaggiato ovviamente e sia voglio mostrarvi le perline che ho acquistato perché poi ho approfittato anche ad acquistare altre perline e tra queste ce ne sono di nuove molto molto belle quindi proseguite nel guardare il video perché veramente vi mostrerò delle perline veramente belle oltre insomma ad avermi omaggiata di una parte di queste perline mi hanno fatto anche degli omaggi che sono questi come potete vedere queste perle effetto occhi di gatto come si chiama insomma una roba del genere e queste gocce stupende sfaccettate in ematite comunque questi sono gli omaggi del sito vi lascio il link se riesco qui in sovraimpressione al video oppure nell'info box per accedere direttamente nel sito per acquistare appunto le perline che vi sto mostrando ora vi lascio all'elenco di tutte le perline vi mostro perlina per perlina e vi faccio veramente rifare gli occhi pronti? bene allora voglio partire subito subito con gli omaggi come vi ho già mostrato questi sono gli omaggi del sito che ringrazio poi vi mostro ciò che ho acquistato io ho acquistato queste perle nuove perché le vorrei provare che sono veramente molto belle soprattutto anche il colore e sono le Iris Duo Metallic Sea Blue sono veramente molto belle togliamo un po' di zoom ecco così magari si vedono meglio sono veramente belle queste perline le voglio provare sono molto curiosa tanto più in questa colorazione che è veramente bella ce ne erano in tanti altri colori ma ho scelto questi adesso volevo mostrarvi anche dei pernetti che ho preso bellissimi in rosa gold vediamo se riesco a mostrarvi intanto vi faccio vedere il codice così magari se apro la bustina e si rovina il codice non fa nulla ecco qua base ericchini zama oro rosa goccia sono fatti così li apro subito così ve li mostro e sono veramente molto belli sono carinissimi ho preso questi e poi ho preso un altro paio che vedrete nel kit nel kit dei materiali che ho scelto per la creazione che farò in collaborazione con il sito questi sono veramente molto belli poi volevo mostrarvi gli svaroschi gli ultimi colori usciti sempre della linea d'elite o d'elite come si dice non sappiamo bene però questo colore è bellissimo laguna d'elite e sono stupendi non necessita neanche di tirarli fuori sul retro si ripresenta il colore dei rivoli e sono veramente bellissimi e sono veramente bellissimi consigliatissimi un altro colore che ho preso da provare appunto della nuova liglia è questa colorazione qui in pesca sono stupendi anche questi questo è il retro veramente veramente belli altro colore della svaroschi questo colore qui sunshine d'elite sempre in questo giallo non sono particolarmente amante del giallo ma devo dire che sono veramente stupendi sarà che sono bionda quindi il giallo è uno dei colori che non utilizzo particolarmente però devo dire che rendono davvero tanto poi quest'altro colore lavender anche il lilla guardate che carini sono veramente belli e questi li ho presi per errore da 12 mm ero intenzionata ad acquistare l'altra colorazione sul blu ma purtroppo ho fatto questo errore e non fa niente però pazienza sono bellissimi ugualmente sono da 12 mm purtroppo quando faccio gli ordini da cellulare si creano questi casotti ora voglio mostrarvi le perle svaroschi che ho comprato sono veramente bellissime un attimo che le tiro fuori scusate il rumore allora partiamo vi faccio vedere questo colore che già avevo preso che adoro iridescent dark blue da 6 mm questi qui anche li avevo già presi iridescent light blue bellissimi sempre da 6 mm da 6 mm ho ripreso anche questi che adoro pearlescent white io veramente questi colori cioè sono veramente innamorata le perle svaroschi veramente bellissime un altro colore che ho voluto provare nuovo molto bello è questo eden green veramente molto bello guardate che bel verde adatto alla stagione estiva primaverile sempre da 6 mm poi ho preso gli un altro colore ancora scusatemi avevo già preso in passato iridescent red che è questo colore fantastico cioè sono tutte bellissime le perle della svaroschi veramente consigliatissime ho preso alcuni colori che si ripetono da 3 mm da 4 mm scusatemi ed è questo eden green ho ripreso l'iridescent light blue e iridescent red questi sono da 4 mm poi prima di passare alle super duo perché ci sono dei nuovi finish che cioè di cui mi sono veramente innamorata bellissimi in foto rendevano ma dal vivo ancora meglio volevo mostrarvi le minus che ho preso ho preso 3 pacchettini di minus in colori questo colore che non avevo matte blue bellissimo veramente bello 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 poi ho preso questo colore che già ho utilizzato più e più volte che amo particolarmente il pastel light brown coco bello 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 bellissimo questo colore e ho preso anche questo colore che non avevo mai utilizzato il metallic matte dark bloom perché ho intenzione di fare altri orecchini di altri colori dei miei orecchini vale per chi li conosce insomma sapete che ci sono le minus ora voglio mostrarvi questi li ho ripresi per me li ho ripresi perché mi serviva per un lavoro mi erano finiti in questo colore sono le diamo un duo in questo colore chaklomi green in questo effetto marmorizzato molto bello e prima di passare alle super duo volevo mostrarvi nuovi cabochon che sono usciti da poco rosetta cabochon sono veramente carinissimi questi cabochon con la forma della rosellina e ho voluto provarli quindi ho preso due pacchettini in questo colore pastel beige perché è un colore abbastanza versatile che posso utilizzare un po' su tutte le colorazioni quindi non ho osato prendere altri colori un po' più forti ora mi mostro le super duo che sono veramente cioè sono rimaste senza parole per quanto mi sono piaciute e un attimo che le divido prima per colore ecco qua sono veramente belli 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 questi belli questi super duo questo colore l'avevo già preso e l'ho ripreso perché mi è piaciuto tanto powdery antique gold e questo verde antico con questo finish dorato stupendo questo verde mi piace particolarmente dopodiché ho acquistato anche questi satin satin metallic khaki scusatemi per la pronuncia però vabbè vedete il codice tutto questo colore questo finish bellissimo anche questo veramente consigliato consigliatissimo dopodiché ho preso anche questo colore brown powdery brown bellissimo anche questo non è il classico color marrone ma un finish veramente molto particolare vediamo se riesco un po' sul burgundy non so bello 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 guardateli insieme sono proprio bellissimi ok poi volevo mostrarvi di nuovo questa colorazione l'ho ripresa l'avevo già presa in passato mi è piaciuto tantissimo li ho acquistati anche non molto tempo fa e powdery beige veramente è un colore che mi piace molto 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 consigliatissimo anche questo poi ho preso questo colore che è bellissimo mi è piaciuto molto molto frutti carambola ha questo finish molto particolare cioè non so se riuscite un po' perlescente non so quell'effetto un po' madreperla bellissimo veramente è un colore che mi ha colpito mi ha colpito tanto poi ho preso anche quest'altro colore fantastico powdery light gold e questo crema con questo finish dorato cioè questo si vede benissimo bello cioè veramente veramente bello sono veramente stupendi questi ultimi colori usciti della della super duo e l'ultimo in questo powdery yellow io non sono amante del giallo ma questo tipo di giallo ocra mi piace bello molto molto bello anche questo mi è piaciuto particolarmente bene vi ho mostrato la carrellata dei materiali che ho acquistato dal sito adesso voglio mostrare i materiali che ho scelto per fare appunto il nuovo progetto in collaborazione con loro stacco il video per un secondo e vi faccio vi mostro le altre perline allora ho scelto le perline da 4 mm in questo colore che ho terminato perché li ho già utilizzati per la creazione che a breve vi farò tutorial iridescent blue dark dark blue da 4 mm questo è da 6 ma comunque li ho presi da 4 dopodiché proverò queste nuove perline le mobiduo che sono molto particolari sono carinissime sono infatti in questa forma e li ho presi di questo colore che io adoro i full budget insomma sono tra i miei colori preferiti poi ho acquistato ho preso scusatemi le rocaille della miuki di 11.0 matte black che comunque sono in questo color blu bellissimo viola insomma fa questi riflessi viola è opaco e sono veramente stupendi queste perline queste miuki poi abbiamo anche qui opac matte opac multi iris da 15.0 e della stessa colorazione non so perché si chiamano diversamente ma comunque lo stesso identico colore bellissimi poi ho preso anche le perle da 4 mm perle shant white ho ripreso le stesse perline comunque alcune perline sono simili e ho preso le rocaille miuki dark topaz ab matted in questo colore stupendo 11.0 bellissimo anche questo io adoro questi colori opachi sono veramente belli poi ho preso anche le mobiduo di quest'altra colorazione azdeck gold erano 30 pezzi ma io anzi erano due pacchetti da 30 ma le ho terminati quasi per il nuovo progetto che vi mostrerò a breve poi nuove perline anche queste saranno per il nuovo progetto le webe duo calc white champagne luster ho preso due pacchettini sono queste perline nuove molto carine cicciottine mi piacciono tantissimo sono molto molto carine speriamo di farne un buon progettino un bel progettino le ho prese anche in questa colorazione stranamente cosa che io di solito questi colori trasparenti non tanto li amo particolarmente però siccome avevo preso dei colori freddi ho provato a prenderli in questo color crystal ab sempre le webe duo ho provato a prenderle anche perché ho preso questi super duo di questo colore che sono stupende queste sono le satin metallic lavender anche queste super duo sono bellissime e ho preso anche questo colore satin metallic magenta ecco qua per ultimo ho preso queste basi per orecchini e vi faccio subito vedere è vuota la bustina perché sono già stati montati nel progetto che vi mostrerò breve non vi mostro il progetto ma vi mostro i pernetti quanto sono belli e sono questi sono veramente stupendi siete curiosi volete sbirciare un po non vi faccio vedere no no questi sono i perni bellissimi bene ragazze vi ho mostrato tutto il tesoro delle perline appunto del sito perline bijou che conoscete benissimo è un sito molto preciso sono molto disponibili hanno avuto anche molta pazienza con me perché ho fatto un po di disastri però recupererò in futuro e vi raccomando restate sintonizzati sul mio canale perché presto ci saranno tante novità il sito mi ha chiesto questa collaborazione continuativa quindi ogni mese uscirò con un nuovo progettino dedicato al sito e questi troverete sempre dei kit nel loro sito bene vi lascio al prossimo video vi raccomando andate a sbirciare il sito perline bijou e per vedere tutte le cose meravigliose che vi ho mostrato un bacione e al prossimo video vi raccomando pollice in su se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non ancora lo fate e mettete cliccate sulla campanella per essere aggiornati soprattutto per i miei prossimi video ciao